Preview Quella notte non avevano pescato niente e avevano tanta fame. Gesù era lì vicino che parlava alla folla. Si avvicinò e essi gli dissero che non avevano pescato niente. Allora Gesù salì sulla barca e disse loro di gettare le reti. Presero così tanti pesci che fecero fatica a tirare su le reti. Tanta fatica. Simon Pietro andò da Gesù, si inginocchiò e gli chiese scusa di essere un peccatore. Gesù gli disse di seguirlo che sarebbe diventato un pescatore di uomini. Pietro rispose di sì e anche gli altri pescatori seguirono Gesù.